Presentato a Palazzo Lascaris il volume Utrecht 1713, i trattati che aprirono le porte d'Italia in Savoia, a cura di Gustavo Molla di Nomaglio e di Giancarlo Melano. L'opera raccoglie le 45 relazioni presentate al convegno a giugno del 2013, che descrivono avvenimenti e clima che hanno cambiato l'Europa e aperto lo sviluppo della nostra regione verso l'Italia.